Un saluto dal Tg della Mobilità per l'avanzamento dei lavori di riqualificazione di piazza Augusto Imperatore percorsi e capolinea delle linee bus 301, 913 e 990 sono modificati. La linea 301 termina le corse alla stazione Lepanto della metro A. Per proseguire verso il centro possono essere utilizzate le linee 30, 70 e 990. La linea 913 cambia percorso tra via Ottaviano e piazza Cavour che diventa il nuovo capolinea. Nello stesso tratto modifiche anche per la linea 990. La piazza Cavour prolunga il percorso su via Vittoria Colonna, via Ripetta e via Monte Brianzo sino al nuovo capolinea di Lungotevere Marzio. E' tutto appuntamento alla prossima edizione.